17 05 del 2 maggio 2023 abbiamo due stanziali nel nido e due fuori uno addirittura si è accovacciato per fare un ripostino e credo che sia quello di giuno che quando si affama e si sa viene sonno dell'altro vedete solo la testa appena ma è lì vicino un attimo fa si è vista la testa una piccola parte della testa comunque non è distante la situazione è ancora stazionaria alle 17 05 nessuno dei due vuole rientrare